Ma ci ho pensato di fare un film proprio allegro, divertente, comico, come quando svolazza il cielo e fa il bagno il mare, proprio una cosa meravigliosa. Il cinema è proprio la cosa che quando si rinasce, sono nato due volte, una volta mi ha fatto una cinema in mamma, la seconda quando ho visto il cinema la prima volta. Tutte le emozioni e i sentimenti, mi sembrava che il cinema guardasse me, dico ma questo mi conosce più di quello che conosco io, è una cosa bellissima.